La Minerva è la dea dell'ingegno, è la dea della ragione, è la dea che ha legato proprio il suo nome alla storia di Arezzo. Noi siamo la città della Minerva, non perché è stata trovata qua, ma perché Arezzo aveva una particolare venerazione verso questa dea della ragione. La Minerva, un'opera ritrovata da Arezzo e risalenta al III secolo a.C., a breve tornerà in città. Il bronzo, che al momento si trova al Museo archeologico di Firenze, sarà a breve ospitato all'interno del Palazzo di Fraternita. Ritornerà a gennaio e sarà un po' il fulcro di una serie di eventi che trova nel Palazzo della Fraternita la sua migliore espressione della civiltà aretina, perché questo palazzo sarà il palazzo del futuro. Ma nei progetti futuri della Fraternita dei Laici ci sono anche tante altre iniziative unite dall'intento comune di restituire il palazzo in Piazza Grande completamente alla cittadinanza. Questo è un palazzo di tutti, dove esporremo la civiltà aretina sia nell'arte sia nella manualità, nelle mani che lavorano, per esempio l'oro e l'Arezzo Oraf. E qua quando l'apertura completa di tutte le stanze del palazzo? Questo succederà gradualmente, con gradualità in progress nei prossimi mesi, a partire da settembre, fine settembre, prima d'ottobre. Tra gli obiettivi della Fraternita non c'è unicamente quello di portare ad Arezzo la Minerva, ma anche un altro simbolo della città, l'aratore. L'aratore vorremmo portarlo, ancora non abbiamo la certezza, ma stiamo lavorando, perché l'aratore è stato trovato anche qui nei secoli passati, sul Castro, e rappresenta un sacerdote di Minerva che conduce due buoi ad arare la terra dove doveva sorgere poi la città di Arezzo. Quindi è il culto della fondazione.